Titoli di studio ritoccati per giustificare propensioni al rischio più elevate. Nello screening iniziato da Federconsumatori su oltre un migliaio di risparmiatori che hanno perso tutto nella vicenda a Banca Etruglia, sta emergendo anche un ulteriore inquietante tassello. Nei profili di rischio, in alcuni casi, la voce titolo di studio veniva modificata verso l'alto nel cosiddetto MIFID, il modulo previsto dalla legge che attesta il profilo di rischio del singolo cliente. Quando abbiamo presentato l'esposto in procura, fatto delle note con cui si rilevava che c'erano delle incongruenze tra i MIFID e i MIFID, riportate nei MIFID, incongruenze di vario tipo, titoli di studio ritoccati aumentando il titolo di studio oppure aumentando, alterando l'orizzonte temporale entro il cui le persone potevano avere bisogno dei capitali, del proprio patrimonio, oppure sul livello di conoscenza degli strumenti finanziari. Gli aspetti ritoccati sono diversi. La finalità quale poteva essere di questi ritocchi? Poter adeguare il collocamento di questi prodotti a soggetti che non avevano un profilo adeguato. Quindi indurli a investimenti più rischiosi? No, la vendita non poteva essere fatta, non poteva essere proposta di tali prodotti a certe tipologie di clienti. Veniva ritoccato un profilo da basso, è stato ritoccato ad alto, una persona che aveva investito storicamente in titoli di Stato improvvisamente diventava uno sfrenato speculatore, un profondo conoscitore della borsa. Ma cose di questo tipo. Grazie.